In che modo il suo master ripropone quella passione per l'innovazione che caratterizza questo tour? Il master è passione. Non si fa un master se non si ha passione per i temi che si vanno ad affrontare, quindi direi che è una precondizione. Poi soprattutto per queste nuove forme, sia di comunicazione che di marketing, che di espansione di piattaforme di condivisione, l'essere coinvolti, l'essere come si suol dire engaged è davvero una sorta di precondizione. Queste piattaforme di comunicazione che si basano sullo sharing e quindi tutte queste forme anche di economia che portano il prefisso crowd, crowd sourcing, crowd funding, presuppongono che le persone siano coinvolte, e che le persone partecipino con una sorta di ingaggio emotivo, con una sorta anche di interesse della persona. E quindi direi che forse la parola passione è oggi una delle poche parole che dobbiamo usare se vogliamo trovare e quindi partecipare ad un corso di studio che poi minimamente abbia la voglia di proiettarci verso il mondo del lavoro. Quindi direi assolutamente che questo master è un master per appassionati. Quindi riscontra comunque molta passione all'interno dello studio e all'interno dei progetti che lo studio porta avanti? Sì, direi di sì. Dopo una fase in cui si immaginava un mondo lavorativo molto razionale, molto basato sulla iper-tecno specializzazione, oggi torniamo un po' a consigliare ai ragazzi di intraprendere delle stade in cui possano veramente esprimere i loro interessi, le loro passioni e le loro vocazioni. Se non c'è passione e vocazione sarà ben difficile che una persona possa trovare una giusta strada, anche naturalmente professionale. Quindi direi forse che in un'epoca di anche grandi crisi, molto prolungata, se si vuole avere una chance di riuscire, proprio perché si fa leva su una vocazione, su una passione per quello che si sta facendo. Grazie. Grazie. Grazie.